beh possiamo dire che oggi gli argomenti non mancano ragazzi eh dal niente di alcuni giorni al tutto tutto gran parte buona parte concentrata un giorno solo non so da dove cominciare non so da dove cominciare onestamente non saprei vabbè cominciamo da fabio paratici che lascia la juventus ma era nell'aria si era capito si era capito adesso qua finisce con i ringraziamenti da parte di andrea manielli che ricorda i 19 titoli in 11 anni fabio paratici che ringrazia la juventus per avergli dato l'opportunità insomma di fare una grandissima esperienza di vincere molto adesso è pronto a nuove sfide sono comunicati chiaramente di drammatica perché comunque c'è un dato di fatto con paratici la juventus ha vinto 19 trofei in 11 anni e quindi la juve ringrazia paratici paratici ringrazia la juve e ci sta e ci sta è giusto che sia così e quando è che si era capito che paratici non sarebbe più stato dirigente della juventus beh insomma l'abbiamo fatto presente qualche mese fa un paio di mesi fa che avendo il contratto in scadenza lui sostanzialmente non avrebbe avuto titolo per operare sul mercato perché il contratto gli scadeva il 30 di giugno gli scade gli scade il 30 di giugno non era rinnovato e il mercato ufficialmente comincia il primo di luglio non ci vogliono molti ragionamenti per capire così come è impensabile che anche un dirigente così come un calciatore salvo rarissime eccezioni vedasi dalla roma arrivi a scadenza di contratto o comunque non si posticipi un rinnovo di contratto nell'ambito entro l'ultimo anno prima della scadenza normalmente si va ad un anno prima un anno prima si rinnova il contratto che scadrà l'anno dopo ok penso di essere stato chiaro se avete capito ma credo che abbiate capito insomma e quindi se nell'ultimo anno non si era parlato del rinnovo del contratto fabio paratici era quasi matematico che si arrivasse a questo tipo di epilogo poi il forte indizio l'ulteriore indizio che poi è andato a costituire la prova di tutto questo è stato quando così come si è rilevato dagli atti e così come poi di fatto è avvenuto sostanzialmente a fabio paratici è stata attribuita tutta la responsabilità della gestione della questione suarez dalla quale il presidente andragnelli si è chiamato foreign agli atti processuali proprio durante un interrogatorio e sostanzialmente paratici ha dato ad avallare questa tesi cioè non l'ha contestata praticamente ha detto sì è vero ho sostanzialmente gestito tutto io è evidente che in questo momento è la certificazione di un rapporto che si rompe è la certificazione del fatto che non c'è più come dire la fiducia di prima fiducia che secondo me si è incrinata ma ve lo dico proprio papale papale nel momento in cui massimiliano allegri lasciò la juventus io ricordo benissimo che quando arrivò sarri agnelli disse che chi aveva deciso di portare sarri sulla panchina della juventus non era stato lui e chi lo avesse fatto si assumeva la responsabilità di tutto questo è evidente che era come dire era quasi come un avvertimento ma che ci sta voglio dire io non sono d'accordo perché lui non era d'accordo i ragazzi avevano pronto il rinnovo per massimiliano allegri ecco poi chiaramente non avendo la gestione dell'area tecnica avendo affidato la gestione dell'area tecnica a paratici e nebbe ha detto ok decidete voi ovviamente allegri non sarebbe mai rimasto in presenza di fabio paratici soprattutto dati i rapporti ormai logorati da mesi in quel periodo di due anni fa e quindi agnelli cedette di fronte alle pressioni di paratici che puntava su sarri e ok disse fallo ok però ti prendi le responsabilità quindi già lì la situazione aveva cominciato ad incrinarsi e adesso si è arrivati dal naturale epilogo con un'accelerazione dei tempi dovuta anche all'andamento di questa stagione che comunque non ha portato al decimo scudetto che comunque non si è rivelata superlativa dal punto di vista della campagna acquisti sia pur con tutte le attenuanti dovuto al fatto che c'era poca disponibilità di danaro e poi ci saranno altre cose loro ragazzi sulle quali noi non possiamo entrare l'uscita di scena di paratici se noi applichiamo la regola del 2 più 2 porta inevitabilmente a massimiliano allegri se noi applichiamo questa regola posto che si sta rafforzando questa idea che possa tornare massimiliano allegri e che con più passano i giorni la riconferma di pierlo si rafforza la tesi opposta è tutto da dimostrare che comunque questo teorema porti a questa conclusione certo è che se è vero che allegri comunque ancora qualche dubbio legato al real madrid questa mossa della juventus è come se fosse uno scivolo per massimiliano allegri no come dire senti guarda noi ti stiamo creando tutte le condizioni perché tu possa tornare o meglio abbiamo creato la condizio sine qua non la condizione principale che è quella della assenza fisica di fabio paratici con quale sicuramente non saresti tornato a lavorare con quale non saresti tornato a confrontarti tutti i giorni non c'è più paratici vi era promosso federico cherubini in questo ruolo dovrebbe rimanere pavel net che comunque con allegri aveva mantenuto un buon rapporto è chiaro che tutto questo giro logico porta a pensare che sia massimiliano allegri il prossimo allenatore della juventus però vi ripeto non ho la prova che sia così non posso ancora spendere ufficialmente il nome di allegri come nuovo allenatore della juventus è chiaro che ci sono forti indizi la situazione dell'inter mi porta a pensare che sapete come è andata a finire con il divorzio di antonio conte mi porta a pensare che possa esserci anche un tentativo possa esserci anche un tentativo estremo dell'inter da parte di marotta che ha lavorato con allegri e direi piuttosto bene che ci possa essere un tentativo dell'inter su massimiliano allegri questo non lo posso escludere questo non lo posso escludere però insomma tutto quello che si sta creando è la condizione favorevole al ritorno dell'ex tecnico bianconero e voi sapete come la penso di allegri quindi fermo restando quello che io penso di massimiliano allegri devo dire che mi dispiace molto questo accantonamento anche mediatico io non so se voi avete visto la partita del cuore ieri ma è vero che ci sono state tante inquadrature su allegri tante inquadrature su pirlo c'è stato anche il famoso two box la doppia inquadratura che ho anche utilizzato in un servizio oggi delle 13 a sport medias però si è avuta l'esatta percezione non so se l'avete avuta anche voi questi colloqui tra allegri e gionel can questi colloqui tra allegri e donna allegra che ci sia questo ha rubato la scena se dobbiamo metterla sul piano della scena rubata cioè di chi ha avuto più scena nell'ambito di questa serata tra allegri e pirlo non c'è stato confronto io ho avuto questa sensazione cioè che quello di casa fosse massimiliano allegri e l'invitato fosse andrea a pirlo forse sto usando dei termini forti ma ho avuto questa chiarissima sensazione ho avuto questa chiarissima sensazione poi è vero che pirlo lo vedevano tutti i giorni allegri non lo vedevano di sicuro tutti i giorni anche se spesso a torino è vero che c'è anche questo questo fatto di cui tener conto però però io ho avuto questa grossa sensazione e mi dispiace per Andrea Pirlo mi sono rivisto anche un po' oggi perché dovevo usare in un servizio le immagini della sua esultanza dopo la conquista della Champions il resto dell'idea che secondo me la chance gli andava ridata vi siete spaccati molto su Donnarumma ho notato chi lo vuole ma la maggior parte non lo vorrebbe ho notato questo spaccati sì ma c'è un orientamento nei confronti del no su Gigio Donnarumma anche qua aspettiamo vediamo vediamo e aspettiamo non è una cosa molto semplice non è una cosa veloce però la Juve c'è la Juve c'è ma non c'è solo la Juve anche il Paris Saint-Germain c'è piuttosto forte quindi staremo a vedere dove Raio andrà a prendersi i soldi di commissione perché tanto quelli se li porta a casa comunque prima di chiudere il comunicato delle tre squadre Juventus-Real Madrid-Barcellona sull'UEFA c'è una coerenza assoluta di presa di posizione io l'ho interpretato così ma è chiaramente leggibile ossia noi vogliamo cambiare il calcio e tu UEFA non mi puoi imporre nulla non c'è una coercizione giustificata nel tuo rapporto con noi perché vai contro i principi delle corte di giustizia europee che prevedono una libera concorrenza e tu ti metti in una posizione dominante questo non significa che io non voglia dialogare con te quindi c'è un'apertura bisogna vedere come la prende Ceferin ragazzi o Ceferin o Ceferin o Ceferin non lo so comunque quello lì bisogna vedere come la prende se la prende dal punto di vista personale se la prende dal punto di vista dell'organo UEFA se la FIFA può svolgere un'attività di mediazione dal momento che Infantino era d'accordo nel modificare il calcio ed era affascinato dal progetto Super League ci sono diverse componenti sarà una battaglia dicono lunga eh però ragazzi io l'ho già detto ieri entro una certa data tu devi presentare una lista Champions lunga sì ma non lunghissima lunga sì ma non lunghissima vedremo il controcomunicato dell'UEFA perché adesso si viaggerà a comunicati e controcomunicati e poi staremo a vedere staremo a vedere io ribadisco faccio fatica a pensare che la UEFA possa rinunciare a quelle tre squadre faccio molta fatica e poi se la UEFA dovesse arrivare all'esclusione la UEFA non potrebbe nemmeno partecipare al campionato di Serie A io questo scenario faccio fatica a vederlo ve lo dico chiaramente faccio molta fatica a vederlo ci sarebbe tanto altro di cui parlare? forse vedremo domani c'è questa importante assemblea della EXOR e domani sera non sarò da solo ve lo dico domani sera non sarò da solo a fare il video vedremo di confrontarci un po' non vi dico con chi ma è un bravissimo collega molto ben informato vabbè insomma non vi dico domani sera comunque non sarò da solo seguitemi mamma mia ho già parlato tanto siamo a 12 minuti e 10 di video scusatemi magari vi ho pure annoiato al prossimo a domani iscrivetevi al canale iscrivetevi anche a quello di mio film ciao ragazzi ciao ciao